Il mercato si è notevolmente trasformato nel tempo ed è un mercato sicuramente più stabile, più duratura nel tempo. Molte aziende purtroppo hanno sofferto di questo calo drastico di incentivi e non sono riusciti a dare continuità al proprio lavoro ma diciamo che quelle che sono sopravvissute ora operano in un regime di professionale molto importante, molto serio e diciamo che ora gli impianti sono fatti principalmente dove ci sono le unità di consumo. Questo è un concetto molto importante perché non si realizzano più impianti semplicemente per vendere energia, cosa molto speculativa ma si realizza un impianto per produrre energia laddove è necessario. Questo è un concetto che si va a integrare molto bene con gli argomenti della settimana nel senso che il fotovoltaico diventa una piccola parte di quello che è un sistema più integrato dove anche la mobilità elettrica, il risparmio energetico e l'utilizzo di questa energia per produrre calore quindi riscaldare ambienti, deumidificarli o comunque gestirli con la domotica è molto importante. Ricordo che il fotovoltaico a differenza di molte altre fonti rinnovabili quale eolico e quale idroelettrico, esempio, è l'unico impianto scalabile quindi è l'unico impianto che effettivamente può essere utilizzato negli edifici e può essere costruito indipendentemente praticamente dall'area geografica dove ci troviamo quindi può essere costruito in tutte le parti d'Italia e soprattutto con le dimensioni tali che vanno dall'industria a un residenziale. Nelle altre fonti come idroelettrico, geotermico o soprattutto eolico questo concetto manca completamente quindi in realtà quando si parla di energie rinnovabili gli impianti fotovoltaici uniti adesso a piccole biomasse o piccoli cogeneratori sono effettivamente l'unico strumento che soprattutto il privato cittadino ha a disposizione per autoprodursi energia. Di questo parleremo, parleremo dell'evoluzione normativa e diremo che questo mondo lascia ben sperare in quanto anche la finanza, che introdureremo nell'intervento sta progressivamente togliendo fondi alle fonti fossili per investire nel fotovoltaico.